ah vedi intanto si dice si torna quanto tempo cari eh non a londra sono andando a portobello non sapevo cosa fare ho detto ma perché non fare un vlog dai dai come state cari eh che si dice saranno vlog a caso quindi è giusto per divertire just for fun just for fun adesso sto andando a vedere portobello e poi non lo so però le cos'è portobello? portobello è semplicemente la portaportese di londra tanti banchetti d'antiquariato vestiti cose che si radunano e fanno portaportese vendono fanno affari cose pure un macellaio qua che è tipo l'unico che ho visto a londra questo sono buoni dopo un buon dolcino un caffè se tu metti la moca la lasci un quarto d'ora dopo che quella è uscita ti viene meglio sta buonissimo è tipo una raffa di pollo fritto che ho insalata e salsine varie è davvero buona ci hanno messo pure una melanzana sola davvero buona stavamo per andare via però abbiamo detto no dai mangiamoci una cosa consigliatissimo stiamo andando verso baker street per prendere un buon caffè c'è una cosa carina che vi farò vedere tra poco 40 euro buscio di culo non è vero è 23 siamo arrivati ad arsenal il quartiere dove c'è la mostra del cugino di georgia e adesso ve la andremo a far vedere sto sempre facendo così è una cosa che odio lei dice cosa fai io sono un'artista lei è laura tu andai su youtube lo sai questa è la sua mostra queste sono le sue mitiche opere d'arte che sono fatte con la plastica sembra marmo ma invece è plastica hanno fuso le plastiche per dare il stesso effetto metti a fuoco metti a fuoco dai è stato un sacco di tempo a mettermi a fuoco allora sono stato in questa galleria a fare questo workshop adesso torneremo verso casa ci cambieremo delle mosche a quale poi andiamo al ristorante vietnamita con un nice friend lo faccio vedere tra poco anzi lo faccio vedere subito dopo eoni e no eoni eoni di tempo siamo riusciti a arrivare alla sera e al punto crudo del video la cena oh man ci vlogga sta vacanza ma poi devi caricare lo su youtube però certo me lo carico c'è un cuore ma questo è un cuore dopo aver shape ricordato ecco qua verione la cosa so Ah, è un po' raro, un po' raro C'è pure già la musica in tutto questo pomo Che schifo Allora, siamo nel corridoio Prima di entrare a casa Siamo stati con loro Faccio una buonanotte cari, ciao Buon anno